Il senatore di litigare sarebbe meglio per tutti, non solo sulla giustizia. Domani il senato invece cosa faranno i senatori dei visti? Domani c'è una maggioranza PD 5 Stelle Italia Viva che riterrà di mandarmi a processo. Noi non ci opponiamo, ritengo che sia un processo inesistente, perché difendere i confini e la sicurezza del mio paese, proteggere gli italiani, era un mio dovere, non un mio diritto, e andrò tranquillamente in quell'aula di tribunale rappresentando milioni di italiani perché ho semplicemente fatto quello che gli italiani mi chiedevano, cioè controllare chi entra e chi esce dal mio paese e dove faccio il caso del mezzo. Grazie mille. Parlando di oggi invece, qui a Venezia per? Per rendere omaggio alla città più bella del mondo e ricordare al governo le promesse fatte. Qua servono almeno 150 milioni di euro all'anno per evitare che la città finisca sott'acqua. Una volta al mese già ci sono i problemi, oltre all'acqua alla alta, il coronavirus, i tanti no, i tanti bastiani contrari, sulle grandi navi non abbiamo ancora capito dopo mesi, anzi dopo anni, il governo cosa vuole fare, almeno tirino fuori i soldi necessari perché la città non vada sott'acqua. È un sostegno anche al sindaco Brunale in vista elettorale, possiamo dirla così? Ognuno farà le sue scelte, però mi sembra una città pulita, ordinata e ben amministratta. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.